ma lo potete dire un'altra volta per favore ragazzi dicendo di spostare l'opel la volete spostare di chi è quest'opel no io passo non mi frega niente dove è la no ragazzi ma non si può capire una macchina a mezzo ragazzi non saprete di chi è quest'opel uno di voi sarà se no io sbatto contro gli compro non devo dire non so dagli una botta andate in 6-7 a spostarla vanno 4-5 uomini andrea vai tu a spostarla io sono mica lì e 3-4 uomini si sposta la macchina una volta alla volta andate 3-4 uomini andate 4-5 uomini a spostare sta macchina ma si sposta no per piccola un po' alla volta si sposta andate a spostarla vuoi che non ci sia non lo so è in mezzo alla strada ma non lo so l'hanno dietro e l'entro io non lo so dovrei capirlo comunque se si prende i 3-4 si sposta io che posso fare si sposta ragazzi si sposta si butta anche dall'altra parte ma si forza vai vuoi andare a spostare l'opel ragazzi forza tutti e scostare l'opel grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti